Guaglio, buongiorno! Ecco mi chiamo stamattina! Ora ci vedo Emanuele e la regina Elisabetta che mi hanno regalato. L'ho presa l'altro giorno a Napoli, provincia di Caserta. Ecco mi chiamo, mi hanno fatto un regalo a due persone fantastiche. Regine, voi sapete che razza era? Vediamo se è indovinato nei commenti. Ecco mi chiamo stamattina. Emanuele, come si bella? Si è stancato. Dalla una pagina a Reginella, regine! Ha paura Reginella. Emanuele è geloso pure di Reginella. Emanuele, come si bella? Regine, si è stancato. Emanuele, come si bella? Eh, ha mangiato, è stato in giro. Bello, tranquillo. Io sono le persone che mi seguono, i miei fan. Vi voglio bene a tutti, i bambini. amate gli animali che è una cosa bella nella vita chiama gli animali vuol dire che ha un cuore grande gli animali sono meglio delle persone voglio, sempre c'è una dieta frisca ti sta benissimo nella campagna ti rilassi sempre oh no Manu ecco mi amo voglia la regina Elisabetta ma che razza sei fantastica Manu ma sta dormendo cerca di mettere i spigli sempre che dormi via